Barga è indubbiamente una delle capitali della tradizione della festa della Befana, dei canti di questo, ammessi in versi anche da Giovanni Pascoli, dei gruppi mascherati e da qualche lustro a questa parte anche con la residenza ufficiale della Befana che vive infatti nella sua casina in Lenne a Pegnana, visitata ogni anno da centinaia di bambini con famiglie a scuole. Per tutti questi motivi la tradizione qui è forte e tanti sono gli appuntamenti in programma sia il giorno della Vigilia che il 6 gennaio. Intanto il pomeriggio del 5 gennaio sarà festa grande con i piccoli. Dalla sua casetta di Pegnana, sulla montagna, la vecchietta arriverà a Barga per incontrare i bambini e con loro girerà per le vie di Barga. Un evento pensato per sottolineare i tradizionali canti di questo in giro per le case di gruppi di piccole Befana e Befanotti. La sera invece spazio ai gruppi mascherati della Befana e dai più grandi con il ritorno della rassegna delle Befana in Piazza Angelio con musica, cose buone da mangiare e di premi riservati alla Befana più bella, gruppo più bello e dai migliori Befanotti. Archiviata la giornata della Vigilia, la Befana aspetta poi tutti il 6 gennaio a Pegnana nella sua casina, grazie all'organizzazione dell'Associazione della Befana. Qui raccoglierà nuovamente grandi e piccini con tante sorprese per dare a tutti il suo ultimo saluto prima del meritato riposo.